Siamo messi bene, stiamo viaggiando molto bene, abbiamo lo spila a ranga piena, una ventina di nodi in poppa, cerchiamo di stare nella zona di Aliseo più sostenuto, più stabile e il tifone diciamo che ci sta sfilando sulla nostra prua e sta andando verso nord, siamo a 3.300 miglia dall'arrivo, stiamo facendo più o meno 16 nodi di avvicinamento, abbiamo 22 nodi di vento, facciamo delle belle planatone a 20 nodi, direi tutto bene.